Mi chiamo Lattanzi, oggi a Catania per rappresentare questo spettacolo femmine e si è occupata dei testi, delle partiture musicali ecco, cosa si deve aspettare di stare in sala a vedere? Guarda, noi abbiamo fatto una scelta, un omaggio alle grandi autrici e cantanti latinoamericani in modo che così abbiamo fatto un omaggio a tutto il sud del mondo tanto è vero che ascolterete brani di Ciavela Vargas, di Consuelo Velázquez, Violetta Parra proprio per unire tutti i sud del mondo Catania, più sud di Catania non potevamo andare quindi penso che sia gradito ieri sera è andato molto bene, speriamo anche oggi e domani